Questo programma è offerto da Decnocampus Mercoledì 24 aprile, buongiorno da Teleprima Benvenuti anche in questa giornata alla quotidiana Rassegna Stampa che come ogni giorno è offerta da Decnocampus Anche questa mattina vediamo che tanti sono i fatti presenti sulle testate nazionali tanta informazione ma soprattutto ancora una volta tanti scontri soprattutto all'interno del governo e purtroppo si torna a parlare ancora di Sri Lanka perché il numero dei morti è salito ancora una volta ma cominciamo subito a vedere quelli che sono i fatti in primo piano lo facciamo questa mattina cominciando dalla prima pagina del Corriere della Sera e vediamo che infatti in apertura di pagina abbiamo proprio la rissa nel governo sul Salva Roma tensione sempre più alta, Conte irritato con il vice leghista il Movimento 5 Stelle pubblica quattro domande al sottosegretario indagato Salvini intanto annuncia lo stralcio Di Maio lo affronta al Consiglio dei Ministri e lo attacca su Siria infatti è proprio scontro nel governo sul Salva Roma il Consiglio dei Ministri inizia senza Di Maio che il ritardo di un'ora arriva e attacca la Lega proprio su Siria se ne deve andare poco prima Salvini aveva annunciato lo stralcio del Salva Capitale dal DL Crescita provocando la reazione risentita del Premier Conte e la smentita dei Ministri 5 Stelle dobbiamo ancora discuterne e intanto vediamo che si parla di scuola, lavoro e famiglia e titola proprio così Corriere della Sera il tempo rubato ai nostri giovani quanto tempo viene sottratto proprio al futuro di quelli che un giorno saranno gli adulti e che oggi sono ancora i ragazzini, i giovani che sembrano essere sempre più sottovalutati, sottomessi e molto spesso non considerati in questa nostra società anche se in realtà essi rappresentano proprio la base la base su cui lavorare e su cui creare proprio qualcosa che sia davvero quello che viene tanto paventato come un vero e proprio cambiamento e ancora in vista del voto per l'Europa popolari e liberali insieme con i sovranisti illuminati caro direttore siamo alla vigilia del 25 aprile la festa della nostra libertà e della nostra democrazia sono passati esattamente dieci anni da quando celebrai da presidente del consiglio questa ricorrenza nella cittadina abruzzese di Onna ferita due volte dalla violenza della rappresagna nazista nel 1944 e dal terremoto di poche settimane prima in quella occasione espressi l'augurio che la stagione dell'odio fra italiani fosse definitivamente superata e non si riproponesse mai più a dirlo è Berlusconi proprio in questo articolo sul Corriere della Sera che annuncia proprio la festa della liberazione che sarà celebrata domani il 25 aprile e che rappresenta un forte momento nella storia dell'Italia e infatti è proprio la senatrice Segre che sempre dalle pagine del Corriere della Sera dice il 25 aprile chi fa politica studi la storia è quello che mi verrebbe spontaneo dire ovviamente la scuola dovrebbe essere maestra proprio in storia molto spesso la storia viene sottovalutata, sottintesa e troppo spesso considerata un qualcosa di pesante, noioso e che nel tempo non ci potrà essere di nessun aiuto soprattutto perché quando ci troviamo fra i banchi di scuola diciamo che noia questa storia ma la storia rappresenta quella che ci viene insegnata troppo spesso male come un qualcosa di stantio, di vecchio, di arretrato senza renderci contro che tutto ciò che è passato altro non è che un seme nella nostra esistenza insomma facciamo sì che la storia non sia semplicemente un ricordo un qualcosa di vago, di passato, di vagheggiato ma che sia piuttosto un insegnamento per il nostro presente non dico il futuro perché quello verrà nel tempo e infatti vediamo quello che dice proprio la senatrice i politici non possono ignorare la storia così chi ha dato la vita muore di nuovo Liliana Segre parla a Corriere del 25 aprile domani resterò a casa, non ho più l'età per andare in corteo e intanto vediamo nell'editoriale di Gian Antonio Stella ma i conti non tornano e infatti tesori immobili, no svendopoli, cambio d'uso per valorizzare quanti insistono sull'idea peraltro vecchiotta di fare cassa vendendo parte del patrimonio immobiliare pubblico farebbero bene a rileggere quell'ansa del 2001 e confrontare i sogni, gli impegni e le aspettative di allora con quanto è accaduto davvero un esempio la caserma Miale di Foggia un autobidone economicamente catastrofico sono andate avanti per anni le polemiche, le risse, le inchieste della magistratura su vari esempi sballati di quell'operazione di valorizzazione di beni immobili che il governo di Silvio Berlusconi e il ministro Giulio Tremonti avevano battezzato società cartolarizzazione immobili pubblici e insomma veramente sembra che proprio gli immobili pubblici che dovrebbero essere sfruttati e scusate il termine sfruttati ma la realtà è questa dovrebbero essere utilizzati in maniera più appropriata vengono o svenduti o inutilizzati e quindi lasciati cadere dall'incuria dal pessimo atteggiamento delle persone e di tutti coloro che effettivamente non hanno interesse ma continuiamo a vedere le notizie in primo piano dal Corriere della Sera vediamo nella parte centrale della pagina ancora una volta si parla di Sri Lanka dopo la strage di Pasqua infatti è dolore ai funerali l'Isis intanto rivendica vendetta per i morti in Nuova Zelanda e il kamikaze con lo zainetto quella carezza prima del boato infatti in un video la rivendicazione degli attacchi in Sri Lanka la firma dell'Isis sulla Pasqua di sangue non si è fatta attendere negli attentati a chiese e hotel coinvolti due gruppi islamici locali intanto a fare il giro del mondo sono le immagini di un kamikaze che prima di farsi esplodere incrocia sui suoi passi una bambina che quasi ha carezza tra viso e spalla e la vediamo proprio in questa immagine insomma quello che potrebbe essere visto come un gesto di tenerezza ma alla fine la tenerezza che fine ha fatto nel momento in cui ha distrutto la vita di tantissime persone in quello che è considerato il paese della gentilezza della pace e soprattutto quello che adesso deve vedere la riscossione e soprattutto la rinascita e ancora vediamo che cosa accade sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera l'Italia chiede il cessate e il fuoco stiamo parlando della Libia Gassan Salamè per uscire dalla guerra la sola via è il dialogo l'Italia chiede la tregua Gassan Salamè inviato per Libia oggi alla Farnesina e dice a Corriere se non torniamo al processo politico il pendente sarà il popolo libico e ancora vediamo l'Ajax la rivincita sugli eroi greci e quello che viene appunto raccontato nel calcio i campioni danzanti dell'Ajax come successori degli eroi greci i campionati di oggi i campioncini di oggi forzuti e veloci indomabili e instancabili ricordano il gigantesco Ajax e eroe dalla potenza bruta anche questo ovviamente tutto ciò che ci ricorda gli eroi passati e che viene paragonato allo sport ci lascia un sorriso ma forse anche una mitizzazione di quello che è la nostra esistenza e soprattutto di come vediamo oggi lo sport e ancora nella parte bassa della pagina Roma talpa del comune per Casa Pound sospetti dopo il caso di Torre Maura rivelava notizie sull'accoglienza ai migranti infatti gli investigatori della finanza ne sono ormai convinti c'era una talpa in comune una donna che rivelava ai militanti di Casa Pound notizie sull'accoglienza ai migranti le indagini su una maestra che lavora per l'amministrazione comunale sono partite dopo i disordini nelle periferie dopo il caso di Torre Maura e ora potrebbe scattare la denuncia penale nei suoi confronti insomma questo è quello che viene raccontato nella giornata di oggi questo è quello che denuncia appunto la presenza probabilmente e presumibilmente così di una talpa all'interno del comune e che dava informazioni tanto da far sì che proprio a Torre Maura a Roma che cosa accadesse era accaduto appunto la situazione dei Rom era stata un peso notevole ma soprattutto trattata in maniera indecorosa ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano il fatto il fatto quotidiano inchiesta sugli sversamenti tossici di petrolio in Lucania credibile il manager che denunciò tutto e si suicidò il giudice dall'Eni sconcertante malafede e intanto nella parte centrale della pagina eccoci qua vediamo proprio separati in casa botte da orbi sul decreto crescita Conte furioso con il leghista allora è grave ma non seria governo riunito ma Di Maio è in tv Salvini via il tagliadebito di Roma poi 5 stelle arriva e scoppia la rissa anche su Siri l'ite fino a notte fonda il numero uno del carroccio approfitta dell'assenza degli alleati per dichiarare che le misure sulla capitale sono rinviate e che il suo uomo non si muove da lì e intanto arata il compare di Siri al detenuto ci manchi tanto e ancora alla paura degli islamici ci pensa Capitan Mitral la vignetta che ritrae appunto Matteo Salvini con il mitra in mano una vignetta tratta però da una foto reale che tante polemiche ha suscitato nei giorni scorsi e infatti non sappiamo se Luca Morisi il disinvolto uomo social di Matteo Salvini nel postare la foto del capo col mitra si sia ricordato che Mussolini come disse qualcuno era riuscito a conquistare gli italiani entrando nelle loro teste ancora vediamo nella parte centrale della pagina la cena della paura Salvini e i forzisti temo nuove inchieste sulla sanità lombarda la vigilia di Pasqua vede infatti la bel rusconiana Ron Zulli e parla di voto in piena bufera Siri giovedì scorso il leader leghista si è confidato con la fedelissima del Caimano in arrivo indagini delicatissime poi lo sfogo contro l'alleato del movimento dice appunto di averne le tasche piene e ancora vediamo le altre notizie in primo piano conflitto alla corte Bonfrisco i giudici contro l'immunità ora va processata e intanto per la riconversione Ilva Taranto il nuovo commissario stava lì già con Balducci e infine nella parte bassa della pagina da Savona alla prefettura così evitiamo le tensioni ma l'effetto è opposto stiamo parlando del 25 aprile che cambia strada perché c'è Casa Pound la manifestazione della liberazione deviata vietato passare davanti alla sede di Casa Pound siamo a Savona a via San Lorenzo strada simbolo dell'antifascismo qui nel 1922 i fascisti assediarono la sede della generale di mutuo soccorso della generale di mutuo soccorso e qui nell'aprile 1945 passarono i partigiani che liberavano la città racconta lo storico Giuseppe Milazzo erano anni che a Savona non si parlava tanto della festa della liberazione la sera del 24 quando Savona si liberò la gente sui lava lungo le strade seguite dalle truppe di liberazione questa volta no il prefetto Antonio Cananà ha disposto infatti che la fiaccolata non passi per via San Lorenzo motivi di ordine pubblico dicono in prefettura perché in quella strada è stata aperta proprio l'anno scorso la sede savonese di Casa Pound proprio accanto alle sedi delle storiche società di mutuo soccorso per non parlare di lotta comunista e di associazioni anarchiche e ancora continuiamo a vedere di Endgame Avengers torna alla saga degli eroi sbanca botteghini e sempre su questo tema continuiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani nazionali continuiamo ancora a vedere l'informazione come viene trattata questa mattina da libero e vediamo che proprio nella parte alta della pagina carroccio in balia dei magistrati lega sotto assedio giudiziario le procure hanno lanciato l'offensiva contro il partito Movimento 5 Stelle gode e rincara le accuse 4 domande per far dimettere Siri i grillini cavalcano i PM per poi governare con il PD e intanto vediamo che il 25 aprile secondo Vittorio Feltri ormai è solo una festa dell'ipocrisia e ancora una volta l'immagine di Salvini in primo piano il ministro dell'interno continua a far notizia da solo i deliri di Saviano fanno solo ridere e intanto Salvini a caccia di falsi invalidi e nella parte centrale della pagina rissa sul decreto che regala 12 miliardi a Roma il rapporto tra i due vice premier ormai dice proprio libero e alla frutta Matteo blocca la norma aiuti a tutte le città o a nessuno ma i 5 stelle non ci stanno e nella parte bassa della pagina colpa di decenni di numero chiuso le scuole di specialità blindate a che cosa si riferisce oggi questo quotidiano al fatto che i malati ci sono però mancano i medici appunto sembra proprio questo l'allarme che viene lanciato in Veneto e sono già con un vero e proprio problema di sotto numero di medici appunto la realtà è questa i malati ci sono e continuano ad aumentare sempre che non se ne voglia parlare e nello stesso tempo i medici continuano ad essere sempre più in numero esiguo e ancora vediamo nelle altre notizie in primo piano ci spostiamo adesso su un'altra testata continuiamo a sfogliare le prime pagine dei quotidiani andiamo a vedere il giornale ed eccoci qua anche dal giornale il governo è nel caos paralisi totale i grillini disertano il cdm salvini salva roma stralciato 5 stelle blocca tutto e silura siri e intanto vediamo nella parte centrale gli otto macellai che hanno massacrato 321 cristiani il numero è cresciuto proprio nelle ultime ore siamo a poco meno di 360 a Sri Lanka l'isis rivendica la strage le immagini dei kamikaze eccoli qua sotto processo la linea morbida di Bergoglio e ancora si parla proprio di malumori all'interno della chiesa insomma da un lato l'isis da un lato i malumori della chiesa sembra proprio che ci troviamo in un momento storico fitto di avvenimenti e soprattutto di violenza senza fine intanto vediamo in arrivo un boom di ricorsi Cassazione Shock è vietato espellere i migranti gay anche questo sia le richieste di asilo dei migranti omosessuali la Cassazione fissa un ulteriore paletto a tutela degli stranieri che pur non scappando da paesi in guerra possono ottenere in Italia la protezione e insomma veramente ogni giorno troviamo le notizie raccontate in una maniera del tutto particolare molto spesso per porre in evidenza situazioni però messe in risalto in maniera del tutto negativa ancora continuiamo a vedere le altre notizie in primo piano vediamo che cosa ci racconta nella giornata di oggi il tempo Salvini ancora una volta dichiara guerra a Roma scontro in consiglio di ministri sulle norme per sterilizzare il debito del Campidoglio il leader leghista annuncia lo stralcio dal decreto crescita e fa così infuriare pure Conte e ancora vediamo nella parte centrale altro che politici a salvare la città ci sono i turisti e infatti è pienone di turisti nonostante i guai e nella parte bassa della pagina coltellato a termini per il crocifisso al collo senza tetto marocchino aggredisce Giorgiano insultandolo perché cattolico il PM dice c'è odio religioso e intanto sempre sulla politica da ruffa anche sul 25 aprile per pungere il carroccio i grillini fanno i partigiani e a Piazza della Repubblica sei mesi di metro chiusa in piazza scatta la festa e per quanto riguarda le prime pagine quotidiane nazionali facciamo un momento di pausa vi lascio a qualche attimo di pubblicità giusto per riprenderci un attimo e poi ritorniamo subito dopo e continuiamo ad informarci proprio con i fatti in primo piano grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti all'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus un centro direzionale moderno frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto Tecnocampus il nuovo centro direzionale di Caserta è collegato direttamente all'A30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta Tecnocampus SRL Viale Lincoln zona industriale ex San Goben Caserta Tecnocampus la soluzione al centro Bentornati in studio siamo pronti ancora una volta per vedere i fatti in primo piano nella giornata di oggi vi ricordo che oggi è sempre mercoledì 24 aprile continuiamo a vedere proprio le notizie e lo facciamo adesso con la Repubblica e vediamo che nella parte alta di Repubblica si vede proprio l'immagine di questo nostro governo diviso in due parti da un lato il vice premier Salvini dall'altro lato Di Maio ufficiale il governo sono due rottura caos e diserzione al Consiglio dei Ministri Conte sfida Salvini non siamo i tuoi passacarte Siria assediato dai 58 ma la Lega Lublinda e sul Salve Roma vince il leader leghista e intanto vediamo che ormai siamo agli scambi in stile guerra fredda e intanto Zingaretti dalla mafia ai fascisti al voto contro questa alleanza mentre per la G.com con Radio Radicale il servizio pubblico proprio di questa radio dice va prorogato e non assolutamente chiusa e ancora vediamo le altre notizie in primo piano Di Maio attacca anche sul 25 aprile festa di tutti Matteo Sbaglia e insomma è quello che viene definita la mia nuova resistenza e ancora dallo Sri Lanka la strage dei bambini li hanno mandati a morire infatti tanti sono i bambini che sono morti proprio durante questa strage di Pasqua una strage che a quanto pare era stata annunciata voluta e soprattutto determinata e adesso a dichiararsi colpevoli di questa strage è proprio l'Isis ancora vediamo gli altri fatti in primo piano lo facciamo con il messaggero salva Roma guerra nel governo area di crisi in CDM la Lega impone una limatura dei benefici movimento 5 stelle misure approvate a metà Salvini difende Sirio troppi attacchi e Conte ci manchi di rispetto scontro tra Di Maio e l'alleato e intanto l'intervista Meloni io difendo la città e voterò sì Matteo ora sbaglia e intanto l'accusa dei PM le domande dei grillini a Rata e i favori alla società di energia a metà quota di un arrestato per mafia intanto verso il 25 aprile lo strano caso Ampi la partigianeria senza più partigiani e intanto un pessimo segnale che danneggia la capitale appena passata la Pasqua e vediamo che già c'è un nuovo confronto un nuovo raffronto proprio in stile cosiddetto cristiano la Padania e Pilato insomma sembra che ci sia questa duplice versione e soprattutto una situazione che non sembra essere così tanto piacevole intanto nella parte centrale della pagina Sri Lanka l'Isis rivendica i raid nelle chiese ritorsione per i morti in Nuova Zelanda hanno un volto i killer della strage di Pasqua ne vediamo uno di loro proprio nel circoletto rosso all'interno di questa foto e ancora in Campidoglio la maestra Talpa che segnalava i blitz a casa Pound e infine nella parte bassa della pagina visto che siamo sempre in controndendenza per quanto riguarda i matrimoni sembra che secondo le statistiche non ci si sposi più questa mattina il quotidiano il tempo ci racconta una situazione del tutto diversa anzi scusate il messaggero bonus da 4.000 euro sposarsi è più facile ecco gli sgravi fiscali e per Yunder 35 insomma sembra che davvero ci sia l'opportunità se il problema è economico per cui non ci si sposa che adesso il governo intervenga e dia questa possibilità ma ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano lo facciamo con il mattino e partiamo proprio dalla parte alta come al solito andiamo a vedere le notizie brevi la nautica boom di navi a gas ma in Italia non c'è l'impianto di rifornimento e intanto il personaggio guardate un po' la scienziata che ciberà gli astronauti su Marte con le alghe in provetta ed è proprio lei e ancora da oggi al cinema di Avengers l'ultimo capitolo con la vendetta dei supereroi mentre in apertura Salvaro Marissa nel governo Salvini annuncia lo stralcio del decreto crescita lo stop dei grillini e la rabbia di Conte poi nella notte provvedimento approvato a metà ed di maio si rilasci no della Lega e intanto l'accusa di PM ad Arata favore a una società per metà di un mafioso e le interviste del mattino amici che Forza Italia deve ripartire da sud e moderati anche ex PD e ancora vediamo le altre notizie in primo piano un leader nazionale non può aiutare sempre e solo in nord e questo è il commento che viene fatto proprio da il mattino ed ancora vediamo nella parte destra perché i tifosi del Napoli sono depressi e quello che viene raccontato in questo controcampo dopo l'ennesima sconfitta del Napoli e infatti dicono che i napoletani vogliono di nuovo Sarri a Londra rivolgono Ancelotti insomma nessuno sta al posto giusto e per tutti l'erba del vicino è più verde o si stava meglio quando si stava peggio eccetera eccetera il fatto è che purtroppo il passato è passato e non si può riguardare all'infinito l'epico gol di Coulibaly del 22 aprile e appunto quando comunque ci ripresentarono adesso con la depressione appunto dei tifosi napoletani sembra proprio un cane che si morde la coda sembrano due situazioni differenti eppure molto molto simili ma il calcio ne risente dei cambiamenti e sicuramente i tifosi adesso vogliono qualcosa di più ancora vediamo gli altri fatti in primo piano da Ischia la magia della mareggiata verde l'isola diventa un tappeto di Posidonia gli esperti questa è la stagione dell'autunno sottomarino e ancora vediamo quali sono le altre notizie in primo piano eccoci qua l'oretto mare shock operata la pinza pensate un po' resta nell'addome la donna salvata con un secondo intervento il manager Verdo Liva denuncia il blitz dei Nass ma questo lo vedremo dopo nei particolari e intanto il blitz a Chiaia Napoli il comune dichiara guerra e i bed and breakfast fantasmi purtroppo anche questa è una realtà fin troppo nota adesso molto spesso bed and breakfast assurgono la funzione proprio di piccoli alberghi e in realtà non sono altro che stanze veramente affittate quasi come se non ci fosse un domani insomma una realtà sempre più complicata si aggira in un certo senso la legge tutti sono bed and breakfast ma la realtà non è proprio questa e ancora vediamo la strage in Sri Lanka terroristi islamici il grande covo in estremo oriente e ancora il festival di Napoli noi nani di oggi sulle spalle del gigante storia infatti dice appunto questo articolo a che cosa serve la storia apparentemente banale ma certo ma usurata la domanda cede oggi nell'universo contraddittorio e cade oggi nell'universo contraddittorio che abbiamo e abitiamo e ci restituisce risposte che sembrano ma forse non sono diverse tra di loro a nulla si dice da più parti invocando la difficile condizione dell'insegnamento della storia nelle nostre scuole insomma ancora una volta vediamo che la storia viene criticata proprio perché è raccontata probabilmente male e ancora vediamo nella prima pagina del manifesto Salvini e Di Maio giocano al 25 aprile uno se ne frega l'altro adesso no e intanto immigrazione rimpatri fermi la lite continua e nell'apertura di pagina che cosa ci troviamo eccoci qua vediamo direttamente come si apre oggi e a quanto pare il titolo è questo sconsigliati e li vediamo l'uno contro l'altro lo scontro del governo precipita sull'orno della crisi 5 stelle attaccano a testa bassa Siri e Di Maio diserta il consiglio dei ministri ma Salvini annuncia lo stralcio del Salvaroma dal decreto crescita e il grillino piomba Palazzo Chigi braccio di ferro nella notte ancora continuiamo a vedere le altre pagine dei quotidiani nazionali dalla stampa governo in bilico sul Salvaroma i veri rischi nascosti dalla crisi e se la nazione è lacerata volta le spalle al 25 aprile e insomma ci troviamo ancora in alto mare e intanto De Blasio stoppa i grattacieli di acciaio e vetro a New York a parlare proprio il sindaco di New York e dice basta intanto Weber Atene voglio riforme non l'austerity e Pisapia per quanto riguarda il PD serve un salario minimo nell'Unione Europea e intanto vediamo nella colonna di destra il dovere di difendere i cristiani sempre più sotto attacco infatti una decina di anni fa il 18 novembre 2010 scrivevo la comunità cristiana oggi è nel mondo la più sistematicamente violentemente impunemente perseguitata in quel momento pensavo al Pakistan a casi come quello di Asia Bibi persone che comunque erano condannate a morte in virtù di una legge contro la blasfemia gli ultimi cattolici dell'Iran a cui nonostante le smentite del regime l'accoglienza calorosa riservata alcuni giorni prima Tehran al cardinale Jean-Louis Toran era vietato praticare il loro culto all'infinita guerra di esterminio che avevo seguito come inviato per le monne musulmani del nord del sud contro i cristiani del sud ma adesso la guerra è a pieno regime proprio per tutti i cristiani ancora vediamo invece il sole 24 ore DL crescita ultimo scontro sul Salva Roma la giornata più lunga del governo giallo-verde sempre sul filo del rasoio e per il culinare tre fronti sotto viginanza speciale ancora vediamo l'intervista fatta a Giorgia Meloni il programma di Fratelli d'Italia sostegno alle imprese incentivi a chi assume e lotta serrata all'evasione intanto scuola maxi concorso per 66.000 professori e ancora vediamo nella parte centrale della pagina la notizia che ovviamente non farà piacere a nessuno raffica di rincari per i carburanti benzina in autostrada il prezzo vola sopra i 2 euro e intanto nella parte vasta della pagina cipolletta i PIR devono finanziare economia reale e venture capital e intanto il caso Carigio banca verso la conversione del bond e adesso ci spostiamo ancora sulle altre notizie però questa volta su quelle sportive con il Corriere dello Sport abbracciamoci Milan-Lazio Coppa Italia semifinale di ritorno a San Siro di fronte le due squadre protagoniste della rissa in campionato Gattuso e Inzaghi facciamo sì che la partita sia uno spot per il calcio e intanto continuiamo a scendere nella pagina Gasper l'aerezia al potere vi sveliamo i segreti del tecnico che ha fatto grande l'Atalanta e nella parte centrale della pagina io me ne andrei due grandi attaccanti e un destino comune il divorzio dai loro club in signe contestato e fuori dagli schemi il Napoli pronto a cederlo e Icardi sempre più attratto dalla Juve l'Inter intanto ci sta pensando e ancora continuiamo a vedere sempre lo sport su tutto sport Toro ora una volta da Milano ora una volata da Milano a Sanremo Cairo lancia infatti la sfida Champions al Milan ma per Gattuso prima c'è la Lazio in Coppa e si riparte infatti dallo 0-0 dell'andata e nella parte centrale Juve Felix di Piacerti Paratici al lavoro con Mendes prepara l'assalto al talento che in Portogallo considerano l'erede di CR7 tutti i dettagli dell'offerta per raggirare la clausola da 120 milioni fissata dal Benfica e ancora ribaltone al Palermo via Stellone arriva Delio Rossi missione promozione e nella parte bassa della pagina Torino capitale del tennis mondiale oggi l'annuncio dell'ATP final 2021-2025 e intanto Fiat il salvataggio che scatena una bufera a tutto il basket contro l'operazione Gerasimenko e insomma lo sport ci farà parlare tanto ancora una volta ma per il momento smettiamo un attimo di parlare abbassiamo un poco i volumi vi lascio qualche attimo di pubblicità ma non andate via ritorniamo subito dopo e continuiamo a parlare di informazione questa volta locale di pubblicità internazionale a tutti All'incrocio tra Caserta e il futuro è nato Tecnocampus, un centro direzionale moderno, frutto di un ambizioso progetto di riqualificazione industriale che ha messo la qualità del lavoro al primo posto. Tecnocampus, il nuovo centro direzionale di Caserta, è collegato direttamente alla 30 Caserta Salerno e dista pochi minuti dal centro di Caserta. Tecnocampus SRL, Viale Lincoln, zona industriale ex San Goben Caserta. Tecnocampus, la soluzione al centro. Bentornati in studio, prontissimi per affrontare tutta l'informazione locale. Partiamo subito da Napoli che è vicino allo Sri Lanka, infatti la comunità napoletana dello Sri Lanka è in piazza dopo la strage, 2000 in preghiera. Li vediamo proprio nelle immagini che troviamo sul sito di Repubblica, ecco i quali vediamo infatti prega per Sri Lanka. Tante persone accorse proprio in questo momento di forte preghiera, in un momento difficile per tutta la comunità e per il paese. E ancora vediamo proprio le immagini, lasciamo parlare proprio questo gruppo immenso di ombrelli sotto la pioggia, quasi una disperazione. Infatti una vera e propria veglia di preghiera a Piazza Dante e nella chiesa di San Nicola al Nilo. La solidarietà della città, abbiamo perso amici e parenti, ora basta odio. Molti dei 22.000 strelachesi residenti in Campania piangono, parenti e amici, tra le oltre 300 vittime e i 500 ferite negli attentati del loro paese. La maggior parte di quelli che vivono e lavorano a Napoli, 14.000 in tutto, sono originali della zona di Negombo, colpita assieme alla capitale Colombo. E ancora continuiamo a vedere gli altri fatti in primo piano. Si parla ancora di Cronaca, questa volta Cronaca che però fa discutere. Fiori sulla tomba del criminale nazista nel casertano, Lampi, basta, va seppellito in un loculo senza nome. Al cimitero di Santa Maria Capovetere, sepolto il boia di Bolzano, anche alla vigilia del 25 aprile, c'è chi lascia fiori per Michael Seffert. L'associazione partigiani di Caserta chiede adesso che sia spostato altrove. Seppellite in modo anonimo il boia di Bolzano e il criminale di guerra Michael Seffert. Lo chiedono infatti alla vigilia del 25 aprile, il presidente Lampi Alto Agile Sud di Roll, Guido Margheri e quello di Caserta Agostino Morgillo. In una retta inviata ai sindaci di Santa Maria Capovetere e di Bolzano, i due responsabili del Lampi chiedono che si metta fine a quello che definiscono lo sfacciato e spregevole omaggio con fiori e addobbi alla tomba del criminale nazista detto Miscia, compiuto da sconosciuti nel cimitero di Santa Maria Capovetere, così come è avvenuto nei giorni scorsi. E vediamo infatti l'immagine di questo criminale di guerra nazista, sepolto dal 2010, da quando morì nel carcere militare di Santa Maria Capovetere, all'età di 86 anni e da allora la sua tomba emette a di nostalgici che portano fiori davanti all'oculo. Per i due presidenti del Lampi, l'omaggio alla tomba di Sefer rappresenta ogni giorno che passa un'offesa alle vittime della sua disumana violenza e di tutte le vittime del nazifascismo. Ancora continuiamo a vedere i fatti in primo piano. Napoli, questa è la notizia che abbiamo già dato in apertura di pagine, di varicature nell'addome dopo l'intervento all'utero Nass all'ospedale Loreto Mare. Infatti non è stata sottoposta a un taglio cesareo come si era preso in precedenza, ma un intervento finalizzato a risolvere problematiche legate a un utero fibromatoso. La donna di 49 anni nel cui addome i chirurghi dell'ospedale Loreto Mare hanno dimenticato un divaricatore. Secondo quanto si è preso, la donna è entrata in sala operatoria la prima volta a mercoledì scorso, il 17 aprile, e poi nuovamente rioperata il giorno di Pasqua proprio per rimuovere la placca divaricatoria. Insomma, una vicenda che ha sempre più del tragico, anche perché sono quelle situazioni che non si dovrebbero verificare assolutamente, ci vorrebbero maggiori controlli, controlli che effettivamente vanno fatti prima, durante e dopo, ma troppo spesso capitano situazioni del genere e a rischiare la propria vita sono i pazienti, che ovviamente non sanno nulla e si affidano alle mani che per loro sono sapienti di tante persone che troppo spesso dimenticano qualcosa e troppo spesso si distraggono. Ma ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Continuiamo a vedere da Castelvoltuno incendiata la postazione di birdwatching nell'oasi dei Variconi. Vediamo proprio da questa immagine quanto è accaduto. E infatti incendiata nella postazione di birdwatching all'interno dell'oasi dei Variconi a Castelvoltuno, una riserva naturale che ospita numerose varietà di uccelli che migrano verso l'Africa. L'incendio ha divorato praticamente il più grande dei quattro capanni costruiti nel 2001 nell'ambito della campagna di Lega Ambiente Salva Italia, di cui era partner anche la LIPU, la Lega per la protezione degli uccelli. Stanotte una mano criminale, dice l'assessore Giuseppe Scialla del Comune di Castelvoltuno, ha fatto terra bruciata di un capanno dell'oasi dei Variconi. Il nesco dell'incendio spiega non può essere stato spontaneo perché il legno era totalmente insuppato dalla pioggia del giorno di Pasquetta per distruggere tutto, sicuramente è stato utilizzato del combustibile. Quindi la mano che ha alimentato queste fiamme sicuramente non l'ha fatto per caso, ma con una mera e propria intenzione. E ancora vediamo i postumi di Pasquetta. Ovviamente nei giorni scorsi si è tanto parlato di Greta, si è tanto parlato di questo nostro pianeta da salvare, eppure nel nostro piccolo molto spesso non riusciamo neanche a conservare un piccolo angolo di paradiso. Infatti bottiglie e piatti di plastica sul Vesuvio a Pasquetta trionfa l'inciviltà e la vediamo proprio nelle foto in cui vediamo l'immondizia abbandonata quasi come se fosse parte del paesaggio. Addirittura la birra vicino alla ginestra, insomma, una distesa di bottiglie di plastica, bicchieri e piatti, ma anche sacchi di rifiuti. Questo è quello che è stato raccontato con queste immagini. Ma continuiamo a vedere i fatti negli altri quotidiani online e ci spostiamo sul mattino. Napoli, la galleria Umberto, si parla ancora di sfregi, sfregiata infatti da vandali a Pasquetta. Incivili e delinquenti non c'è altro modo per definire la banda di ragazzini che indisturbate. Il giorno di Pasquetta si è divertita a imbrattare i marmi della galleria Umberto I, un pezzo d'arte e di storia di questa città finito nel degrado. Disegne, scritte e oscene, cattive parole e inni da stadio, risate e sberleffi sotto lo sguardo incredulo di decine di persone, tantissimi turisti che si trovavano a passare da lì. Qualcuno ci ha anche provato a spiegare a quei quattro vandali che stavano compiendo un atto vergognoso, però purtroppo ovviamente senza esito. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano, ancora cronaca, accoltellata al cuore e salva. Lo stalker era uscito armato e infatti è stato operata dall'equipo di cardiochirurgia dell'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona che le ha ricucito il ventricolo destro tamponando così la forte emorragia. Emilia David, la donna rumena di 38 anni, accoltellata lunedì pomeriggio dal suo ex amante e salva. Le sue condizioni una volta uscita dalla sala operatoria sono rimaste stabili ma la prognosi resta riservata. La donna al momento è ricoverata in rianimazione ma rispira da sola e secondo il bollettino emesso dall'azienda ospedaliera soltanto una lieve sofferenza epatica e renale. Insomma salva ma di sicuro il trauma e la paura sono stati tanti. Ancora continuiamo a vedere il San Paolo vietato al tifoso in stampelle. Questa è la notizia che comunque ci farà discutere il club dispiaciuti ma queste sono le regole. Infatti non può entrare con le stampelle deve lasciarle qui. È quello che una hostess ha detto ad Antonio Medici professionista beneventano che giovedì scorso si era recato allo stadio San Paolo di Napoli insieme alla figlia per assistere al match tra il Napoli e l'Arsenal. Biglietto pagato per un posto nei distinti superiori a cui doveva accedere senza supporto. L'hostess mi ha detto che non poteva entrare con le stampelle e che quello era il regolamento ha confermato l'uomo. Quando ho fatto presente che così mi offendeva che non erano un accessorio e che senza non avrei potuto raggiungere gli spalti i toni si sono accesi. È intervenuto un uomo vestito di nero a cui ho fatto presente che sì potevo non entrare ma che volevo il rimborso. Ho cominciato a sbraitare che non avrebbero rimborsato nessuno. Mi sono alterato. Lui ha detto di essere un poliziotto e mi ha chiesto i documenti. Insomma una situazione vergognosa. Ovviamente quelle sono le regole ma bisogna farle presente al momento in cui si emette un biglietto. Sicuramente determinante in tutto ciò la violenza che sempre si verifica negli stadi e nei momenti in cui proprio uno strumento come una stampella può diventare un'arma impropria. Questo rappresenta quello che è la paura di tanti. Però la situazione è certa che chi deve andare in stampelle non è giusto che debba limitarsi e soprattutto non potersi godere. Uno spettacolo. Ma continuiamo a vedere ancora i fatti in primo piano dalle testate online. Vediamo da Caserta News. Automobilista si schianta alla rotonda su Viale Carlo III. La vettura è finita tra le piante. La vittima soccorsa dalla polizia è accaduto nella notte. Infatti un incredibile incidente a Viale Carlo III. L'altezza della rotonda che collega il violone con Viale della Libertà era presso a poco l'1.45 quando un'auto che procedeva in direzione al capoluogo probabilmente per velocità nell'effettuare la curva ha perso aderenza con l'asfalto finendo la propria corsa direttamente sulle piante che adornano la rotatoria. Sul posto giunta in pochissimi istanti una battuglia alla polizia che ha proceduto a rilevare l'incidente e a verificare le condizioni del conducente. Insomma ancora una volta si guida senza prestare attenzione a quella che è la strada con velocità veramente troppo elevate. Ancora da Santa Maria a Capoavetere. Ladri si schiantano contro il muro dopo un inseguimento dei carabinieri. Uno è stato arrestato, altri due sono riusciti a scappare a piedi. E infatti vediamo la vicenda proprio tra le vie di Santa Maria a Capoavetere. Ancora vediamo gli altri fatti in primo piano. In coda alla reggia, pensate un po' con le canne in tasca, ha fermato un turista. Raffica di controlli della finanza, allontanati dieci tra venditori e parcheggiatori abusivi e in quattro denunciati. Insomma una giornata, quella di Pasquetta, che ha fatto rilevare il numero elevato di accessi proprio al monumento Vambitaliano. Tanti sono stati controlli e tanti ovviamente quelli trovati in possesso di situazioni che non erano proprio necessarie. Ancora vediamo le altre notizie in primo piano. Marino è in ospedale dal carabiniere Eroe Casertano, il sindaco in visita al militare ricoverato a San Giovanni Rotondo. Lo aspetto in comune, gli ha detto. E infatti lo vediamo ritratto nella foto con il ragazzo. Il sindaco di Caserta, Carlo Marino, va in Puglia per incontrare Pasquale Casertano, il carabiniere 26enne di Caserta, ferito nella sparatoia, verificato dello scorso 13 aprile Neffogiano in cui è rimasto ucciso il maresciallo dell'arma Vincenzo di Gennaro. Il primo cittadino accompagnato dai consiglieri comunali Pasquale Antonucci e Andrea Boccagna si è recato all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo proprio dove il militare è ancora ricoverato dopo il delicato intervento per rimuovere una parlottola vicina alla orta. E ancora vediamo sempre dalle pagine dei quotidiani online, questa volta da Caserta Focus. Ci spostiamo a Casa Pulla, elezioni comunali ed europee rinviata alla festa patronale dedicata a Sant'Elpidio Vescovo. La processione si terrà infatti il 2 giugno. Vediamo nell'immagine proprio un momento della processione degli anni passati, la tradizionale processione onore di Sant'Elpidio Vescovo, patrono di Casa Pulla, rinviata di una settimana alla decisione del prefetto di Caserta che per motivi di ordine pubblico ha spostato il corteo al 2 giugno. Infatti il 26 maggio, data in cui tradizionalmente si tiene la processione quest'anno, coincide con il giorno delle elezioni comunali, particolarmente sentite a Casa Pulla ed anche le elezioni parlamentarie europee, scusate. E insomma, questa è la decisione del prefetto proprio per evitare problemi ulteriori. Insomma, anche con questa notizia che rappresenta comunque un momento di forte aggregazione e una decisione importante per la provincia, terminiamo la nostra rassegna stampa di oggi, mercoledì 24 aprile. Vi invito come sempre a seguire i programmi di Teleprima e soprattutto vi ringrazio per aver scelto la nostra rete ed aver inseguito l'informazione proprio con noi. Ringrazio anche Tecnocampus che come sempre ci offre la possibilità di stare in questa sede e operare a 360 gradi con i fatti che ci riguardano sia da vicino che sempre più da lontano, ma in ogni caso ci danno la possibilità di scegliere a voi tutti un grazie ancora e soprattutto l'augurio di una splendida giornata. Questo programma è stato offerto da Tecnocampus. Grazie a tutti.